Ha attraccato al porto di Fano la golletta verde, l'imbarcazione di Lega Ambiente con a bordo un team di tecnici che ogni anno conducono il monitoraggio scientifico delle coste italiane a caccia dei punti più critici. Raccolgono le segnalazioni dei cittadini e denunciano le situazioni che mettono maggiormente a rischio il nostro mare e la nostra salute. I risultati del monitoraggio delle acque sulle coste marchigiane sono stati presentati questa mattina durante una conferenza stampa che si è tenuta alla Mediateca Montanari. Abbiamo raccontato i risultati di 12 campioni analizzati, la metà di questi, quindi 6 campioni su 12, sono risultati non conformi a quelli che sono i limiti di legge. In particolare 5 di questi sono risultati fortemente inquinati. In provincia di Pesaro Urbino qual è la situazione più critica? La situazione più critica è quella di Fano. In provincia di Pesaro Urbino abbiamo prelevato un campione presso il porto di Pesaro e uno presso la foce del torrente Arzilla di Fano. Il punto di Pesaro è risultato entro i limiti di legge, quindi nessuna criticità riscontrata, mentre per il campione di Fano abbiamo riscontrato un forte inquinamento. Quindi abbiamo instaurato un dialogo anche con l'amministrazione che ha già preso provvedimenti a riguardo. Oltre alla foce dell'Arzilla, fortemente inquinati, risultano i punti presso la foce dell'Esino, a Rocca Priora, a Falconara Marittima, alla foce del Musone e al confine tra Porto Recanati e Inumana. Valori superiori ai limiti di legge sono stati trovati anche alla foce del Tronto, nella riserva naturale regionale Sentina di San Benedetto, alla foce del fiume Tenna, a Porto Sant'Elpidio, alla foce del torrente Valloscura, tra i comuni di Porto San Giorgio e Fermo. Ma lega ambiente non si limita soltanto ai rilievi sull'inquinamento delle acque, ma verifica anche lo stato della biodiversità, dello sfruttamento delle risorse ittiche e dello sviluppo delle energie rinnovabili. Siamo un pochino indietro in questa regione, la biodiversità si tutela sotto molti aspetti e con molte azioni, fra queste anche quella di istituire aree marine protette per arrivare a quella famosa soglia del 30% di territorio protetto a terra e a mare. Non ci sono ancora aree marine protette in questa regione, che invece mi darebbe sicuramente molta più attenzione da questo punto di vista. La nostra richiesta è quella di accelerare sull'iter istitutivo di alcune aree protette che sono state già avviate per questa regione, ma il cui iter si è fermato, per esempio l'area marina protetta del Conero oppure quella della costa picentina. Mettere a segno queste due aree protette significherebbe fare un grande passo avanti per questa regione, che ha dimostrato di avere tantissime cose da dire anche dal punto di vista della conservazione e della biodiversità. Ci sarebbero dei provvedimenti da assumere nel settore della pesca, secondo lei? Sicuramente per quanto riguarda la pesca occorrebbe rivolgere maggiore attenzione a quel comparto della piccola pesca artigianale, ad attività come per esempio quella della pesca strascico, come per esempio tutte quante quelle attività che hanno impatti di perturbazione sui fondali marini. Assessora Fattori, la reazione di fronte alle analisi compiuti dalla Goletta Verde nel nostro territorio? La reazione è una reazione duplice, nel senso che non ci sorprende il fatto che ci siano dei problemi alla foce dell'Arzilla, lo sapevamo di contro. Sappiamo che la situazione è migliorata e quindi grazie agli interventi è una strategia che da dieci anni a questa parte l'amministrazione ha portato avanti e sta continuando a portare avanti. L'amministrazione sta facendo una strategia che va da un lato nella sensibilizzazione e nell'informazione. Quindi abbiamo reso più leggibile i dati di bagnazione, abbiamo spiegato tramite un video che poi avete promosso anche come Fanno TV, come leggere i dati, dove vengono fatte le analisi e il video lo troverete sul nostro canale YouTube. Abbiamo promosso iniziative come Ocean Action che quest'anno ha avuto la sua seconda edizione che ha parlato della grande risorsa mare e di come tutelarla. Di contro l'altra strategia è quella pratica, quella che deve portare risultati. Ovviamente i risultati ambientali si hanno dopo anni, però iniziano ad esserci. Non a caso abbiamo acquisito la bandiera blu in un'ulteriore spiaggia. Cosa stiamo facendo? Abbiamo iniziato con la vasca di prima pioggia. Proprio oggi abbiamo una riunione con i tecnici della Regione Marche per parlare di tutto il tema degli scolmatori e anche con il sindaco di Monbaroccio, persona con cui si sta collaborando molto bene. Quindi una strategia definita in vari passi che vanno avanti da dieci anni e non si stanno fermando.